Crai Ricambi festeggia 40 anni di attività e ti ricorda che da noi puoi trovare ricambi macchine agricole e industriali, esclusivista Laverda, grande assortimento di cuscinetti, cinghie e materiali per lavorazioni terreno, pompe Comet, revisione cingolature, tubi olio dinamici e cardani. Crai Ricambi è in via Trento 180 a Pieve di Sinalunga.